I cavalli, l'elicottero, il padrino cottero, i cavalli in una piazza, in una piazza cottero Oh, c'è la carrozza che vola senza cavalli in quella città Ma siamo su scherzi a pa, adesso è il giorno della polemità che non esiste C'è la droga, l'usura, i pescatori, l'estorsione, i bambini, la carrozza, il rapimento Ma neanche in un comune di 38.000 pescatori, 1.000 bambini, 65.000 cugini possono volare di pescatori Io oggi ho incontrato gli operai di un'azienda che rischiano di essere trasferiti Su Marte, sulla Luna, ma c'è un fenicottero islamico che vola senza permesso Qualcuno deve pagare, torniamo a parlare di cose serie per Roma, per la Sicilia, per i pescatori, per la mafia, per i pescamafia Ma se quelli, se invece di pece, di petali, di rosa, avessero tirato giù bombe a mafia I pescatori non possono entrare in chiesa Che è una schifezza, che è una vergonza Quando il comune multa il barista planetario, se ha il tavolino di 2, 3, 4 milioni di centimetri fuori spazio Quando l'ausiliario del traffico, che non esiste, ti dà la multa, sei parcheggiato E pesci rossi, sulle strisce pedonali, cavalli, casini, di pescatori, di pescavalli Qualsiasi persona normale per molto, 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 molto meno Viene portata in Canada, in Australia, in Germania, in Germastraglia, in Austrancia Perché domani mattina, gli italiani normali si alzano alle 5 Porta i bambini a scuola a fretta, eh I terreni, gli animali, i pescatori Loro, i draghi e i pescatori Glieli porto via Anche il ballo del qua qua? No Le faccio l'esempio? No Ravaglio? No Ma facciamo votare i cammelli rossi? Stiamo parlando di una cosa che si chiama il ballo del qua qua? Ma cosa deve succedere ancora? Dobbiamo vedere l'invasione delle cavallette Che vanno in diretta nazionale su A7 Tra le voci più leggere c'è la confisca di 2 milioni e 65 mila 16, 2, 3, 36, 4 milioni e 4 No Solo un uomo ci può salvare da questa monnezza Salvini!